Il riscaldamento in montagna resta acceso per necessità, non per sfizio, almeno sei mesi all'anno ed è una delle principali voci di costo delle famiglie. I rincari del gas saranno una batosta per il bellunese e i suoi cittadini e se non si troverà presto una soluzione il caro bollete sarà una nuova molla che spingerà la gente a lasciare la montagna. Puntuale l'analisi sull'andamento dei costi energetici in Italia di Andrea Bona, presidente del movimento BARD, Belluno, autonoma, regione Dolomiti. È il caso di pensare di fare anche qualcosa di concreto di fondo agli aumenti delle bollette degli ultimi giorni che rischiano di mettere in ginocchio i nostri paesi di montagna, visto che ci sarà anche riscaldamento globale ma qui l'inverno resta inverno come lo dimostra anche la neve fuori dalle finestre. Per il BARD ci sono due aspetti da valutare, il primo è il costo del gas e l'altro quello dell'energia elettrica e in questo caso in una provincia puntellata dalle centrali idroelettriche paradossale far pagare ai bellunesi gli stessi rincari di tutto il resto d'Italia. In Francia se uno abita vicino al centrale nucleare non paga l'energia elettrica e si scalda con l'energia elettrica perché c'è chiaramente una compensazione di un danno che viene fatto dovendo stare vicino all'infrastruttura del genere. Siccome il bellunese è tutta una sola infrastruttura idroelettrica, alla fine un grande distretto industriale, sarebbe il caso che i bellunesi avessero un sostanziale sconto o comunque l'azzeramento delle spese per l'energia elettrica. Se si spengono le caldaie a ferma De Bona si chiudono i paesi. Senza compensazioni per i danni causati dall'idroelettrico rischiamo di sparire. In questo modo non si va da nessuna parte perché stare in montagna costa bisogna starci dignitosamente, poter accendere la luce e potersi scaldare con un minimo di comfort, il comfort che si chiede a tutti ormai in questi anni. Grazie a tutti.